Un appunto. Un'occasione eccezionale per ricordare per un attimo di che si è parlato a luce spenta e almeno per una volta inciarpare in una pietra, bagnarsi in qualche pioggia, perdere le chiavi tra l'erba e seguire con gli occhi una scintilla nel vento. E persistere nel non sapere qualcosa di importante. Vistava Zimbosca